buongiorno ragazzi buon 2 di gennaio un 2 di gennaio quanto meno frizzantino sul fronte milan adesso ne parliamo insieme un mi piace col pollicione se vi piace il video se vi piace quello che ci diciamo l'iscrizione al canale vi ringrazio non vi costa nulla e la campanella per le notifiche per ricevere i video allora stamattina non ci facciamo mancare proprio nulla partiamo da ribici allora ante l'ho sempre definito il mio psicopatico preferito perché ha un po dello psicopatico no direi anche il fatto che tu non sai mai come gioca ribici non sai mai se in una partita ti può fare due gol e cose spettacolari ultimamente succede raramente oppure non azzeccare neanche il più semplice dei controlli o dei passaggi questo è ante ribici ultimamente però vediamo una versione di di ribici diciamo più costante nel male però cioè prestazioni io l'ultimo ribici che ricordo il vero ribici è quello la prima di campionato contro l'udinese lì ho visto il ribici versione per il resto della stagione o non l'abbiamo visto per gli infortuni o quando l'abbiamo visto è sempre sempre sembrato opaco insomma il ribici la faccia brutta del ribici non la faccia bella ora ci siamo con un altro infortunio un infortunio che lotterà fuori almeno per un mese e ribici guadagna tre e mezzo all'anno tre e mezzo all'anno io credo bisogna iniziare a fare delle 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 riflessioni su anche su alcuni giocatori che potrebbe per quanto ne siamo affezionati potrebbero essere utilizzati per diciamo creare quel quel gruzzoletto che ci consenta di andare a prendere giocatori più affidabili cioè in fin dei conti cioè noi siamo legati a questo gruppo e nessuno discute perché ci ha portato uno scudetto meraviglioso però abbiamo bisogno anche di gente affidabile ultimamente stiamo vedendo che orighi non ne parliamo non l'abbiamo mai visto praticamente rebic l'abbiamo detto bisogna cominciare a ragionare anche su alcuni cambiamenti ma questo sarà discorso probabilmente che andrà a giugno segnalo semplicemente il problema perché a questo punto è un problema se come dicevo nel video di ieri sera abbiamo fatto agosto e settembre a dire out rebic e orighi poi abbiamo giocato ottobre novembre 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 neanche metà e a gennaio ci ripresentiamo con out orighi e rebic e probabilmente out sarà per tutto gennaio e c'è un problema c'è anzi ci sono due problemi direi ci sono due problemi e poi veniamo al portiere allora vasca sta facendo le visite mediche in questo momento poi firmerà e rientrerà a sistemare le cose ovviamente in colombia per poi tornare a metà gennaio quindi dopo domani tanta importa ma quello su cui io insisto io voglio la verità su mike non mollo io voglio la verità su mike oggi prima di iniziare il video ho fatto una carrellata di tutto un po su tutti i siti no per sentire un po inizia a serpeggiare inizia a serpeggiare qualcosa che non va che non mi piace perché io vorrei magic mike in porta dopo domani vorrei vorrei mignon ma innanzitutto per lui per quello che è per il campione che è per per quello che ci ha dato perché è un giocatore meraviglioso perché fa vincere il nostro milan perché parliamoci chiaro senza magic mike in porta lo scudetto dell'anno scorso non l'avremmo vinto quindi potete voi immaginare la sofferenza mia nel dover dire che c'è qualcosa che non va in questa storia di magic mike c'è qualcosa che sfugge c'è un qualcosa di non detto io mi auguro che sia una cosa non lo so leggera che magari tra due mesi lo riavremo in campo ecco tutto lì diciamo che ci saranno voluti sei mesi sette mesi per riaverlo in campo l'abbiamo perso per una stagione ma lo riavremo in campo tra due mesi basterebbe sapere questo metterci una pietra sopra e chiudere il discorso chiuso lì ma tutti questi rinvii della guarigione tutti questi dubbi tutto questi non fanno che alimentare i dubbi che già ho a volte come vi ho detto vi dicevo ieri sera per Rebic bisogna più che gli whatsapp del Milan bisogna usare un attimino la logica cioè la logica delle cose quindi io quando vedo che il mister fa tutti i cambi al sessantesimo in PSV in Doven ma ha tolto Rebic al quarantacinquesimo non ho bisogno dello whatsappino dei pleni potenziali del Milan per capire che qualcosina non è andato a livello fisico perché sennò avrebbe fatto anche lui gli ultimi dieci minuti nel secondo tempo per mettere nelle gambe benzina perché poi avrebbe giocato a Salerno se esce al quarantacinquesimo evidentemente un problemino l'ho avuto che sia leggero o che se mi auguravo fosse leggero ma nessuno l'ha segnalato questo nessuno a tutti è sembrato una cosa normale youtuber che ricevono gli whatsappini dal Milan niente però a volte e per Magic io utilizzo questo metodo cioè non seguo gli whatsappini del Milan perché mi sembrano vaghi fumosi a prendere tempo quindi se permettete anche arrivassero li metterei da parte insisto il problema loro lo sanno sicuramente quel è il problema che ha Magic Mike non possono non saperlo che ce lo dicano ci vuole un mese ci vuole due mesi ci vogliono tre mesi non sappiamo quando ma che ce lo dicano poi c'è la privacy non ci dicono cosa giustamente essendoci la pause in termini sanitari non è che mi devi venire a dire cosa ma io non credo che una società di serie A a livello del Milan non abbia una diagnosi una prognosi e non sappia quando il suo giocatore rientra in campo in questo non ci credo non ci credo è al di là della realtà è al di là quindi io su questo chiedo verità perché non posso credere a quello che mi dicono ufficiosamente no? perché Suma parla un po' diciamo non parla ufficialmente ma diciamo lascia trapelare quello che è no? lo sappiamo lo sappiamo tutti e io non posso credere a quello che dice no? che non sappiamo quando guarisce non lo sappiamo e ragazzi non ci posso credere una società a livello del Milan ha tutti gli strumenti non ha certo problemi a fare tutti gli esami necessari per capire qual è il problema del giocatore e quando torna mi sembra un discorso semplice non è un discorso di così di fantasia poi io mi posso fare tutte le fantasie di questo mondo ma sono mie non le tengo per me vado ad esclusione no? escludo questo escludo quello escludo quell'altro e dico ma che sarà successo a Magic Mike? io ho l'ultima visione che ho di Magic Mike è nel derby che fa cose incredibili cose incredibili un giocatore in uno stato fisico fantastico meraviglioso cosa è successo poi? io ho già derubricato la lesione al polpaccio perché per me ok? l'ho già derubricata quella per me è già guarita non esiste che non sia guarita scusate non esiste quindi aspettiamo aspettiamo scusate se insisto su questo tasto ma lo ritengo fondamentale per il Milan Magic Mike Mignon è fondamentale 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 quindi noi dobbiamo sapere quando rientra se rientra tra 15 giorni se rientra tra un mese se rientra tra due mesi se rientra tra due mesi che ce lo dicano basta questi silenzi oggi qualcosina sta cominciando a venire fuori leggete i siti capite che c'è qualcosa di misterioso c'è chi utilizza misterioso in questa vicenda beh che il mistero venga svelato che il mistero venga svelato per il bene che noi vogliamo a Magic Mike Mignon pomeriggio aggiornamenti forza Milan sempre a vostro mandito una buona giornata grazie a tutti Grazie.